24 giugno 1979, Neutro di Napoli, ultima giornata, Pescara batte Foggia 2-1, l'angolo di Nobili, il colpo di testa di Michele Pescara, in vantaggio di Antonio Valentino Angelillo. C'è però il pareggio, lo vedremo tra pochissimo, di Barbieri, numero 11 del Foggia, su calcio di punizione, davvero molto bello, nulla da fare per Pinotti, il portiere del Pescara dell'epoca. E poi il raddoppio, il gol vittoria firmato da Bruno Nobili, guardate che punizione che sorprende nettamente Benevelli, il portiere del Foggia, sinistro molto raffinato come sempre di Bruno Nobili, una vittoria importantissima per il Pescara che poi conquistò la promozione in seriale allo spareggio col Monza. Questa invece è la partita del Pescara a Bari, Foggia Pescara 3-3, abbiamo visto il primo gol di Casale, questo è il pareggio, il fallo su Alvise Zago, dagli 11 metri realizza con freddezza Eddie Bivi. Poi il Foggia di Zeman che vincerà il campionato alla grande, il campionato di Serie B, stagione 90-91, farà altri due gol, il primo con Baiano dopo una rispinta di Mannini su sinistro ravvicinato di Rambaudi. E poi nello stesso Rambaudi, dopo un errore di Ferretti, palla in verticale, Rambaudi aggira Mannini e porta il computo dei gol sul 3-1 per la sua squadra, ma ci sarà la reazione del Pescara, del Pescara di Giovanni Galeone. C'è il gol del 2-3, sfonda sulla destra in area Totò Martorella, il colpo di tacco di Eddie Bivi per Fioretti, 2-3, dunque accorcia le distanze il Pescara, Pescara che riequilibrerà le sorti del match dopo però questo gran sinistro di Barone, grande intervento di Mannini, portiere del Pescara di quella stagione. Eccolo qui, il gol del 3-3, Edmar dentro per Fioretti e poi Bivi mette a sedere il portiere avversario e sigla il 3-3, addirittura nel secondo tempo questi gol tutti nella prima frazione di gioco, 3-3 nella prima frazione di gioco, nel secondo tempo la grande opportunità mancata clamorosamente da Edmar, senza portiere, porta sguarnita, spedisce incredibilmente a lato. Finirà dunque 3-3, questo invece campionato 95-96 a Benevento, sul neutro di Benevento il Foggia si impone per 1-0, il Foggia di Burnic che aveva rilevato l'esonerato Delio Rossi, il colpo di testa vincente ma la Pescara creerà tantissime occasioni. Questa disposizione di Gelsi, grande intervento di Brunner, il pescara di Maifredi, il colpo di testa di Colonnello, ancora bravo, reattivo il portiere avversario, ripetiamo stagione 95-96 e qui Andrea Carnevale che sotto misura spedisce di testa alto. Questo è l'ultimo precedente che vi mostriamo, 20 gennaio 2018, la vittoria del Pescara allo Zaccheria di Foggia, allenatore Zeman, azione stupenda con la sovrapposizione di Mazzotta, palla in mezzo per l'incursione di Mancuso che precede Guarna e Loiacono, un grandissimo gol.